Diverse, anche contrastanti, le prese di posizione registrate all'indomani della processione di Opido Mamertina che tante polemiche ha generato. Il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, si scaglia contro i professionisti dell'antimafia e invita tutti all'unità per sconfiggere l'andrangheta. Dobbiamo, dice, metterci insieme, perché separati purtroppo perdiamo tutti. Il Vescovo della Diocesi di Cassano all'Oione o difende il parroco di Opido Mamertina. Stiamo attenti a non fare il tiro al bersaglio. Sagerdoti e Vescovi non devono essere lasciati soli. E il presidente dei Vescovi calabresi, Monsignor Salvatore Nunnari, annuncia la convocazione della conferenza episcopale e non fa sconti a nessuno. Dispiace, afferma, che i preti non abbiano avuto il coraggio di non andare via ma di scappare dalla processione. Chiaro e diretto, Monsignor Nunnari non si nasconde. A proposito di segnali, ne propone uno fortissimo, fermare le processioni. Se fossi Vescovo di quella città, conclude, non ne farei e credo che sarebbe cosa gradita alla Madonna.